Sono convinto che i diffusi della Ferrari me lo sanno apprezzare anche te, sperando tra l'altro che tu arrivi finalmente a Maranello. Recentemente si è diffusa la voce che tu stai per firmare a luglio un contratto per la Ferrari. Portosi di colpo, la trattativa si interrotta, ci vedevi un'andata. Quest'anno normalmente scadevo il mio contratto con la McLaren a fine dell'anno e dovevo riguardare il futuro. E' ovvio come è già successo, in 1987, prima che andavo in McLaren, quando ero l'Otos allora, ho avuto contatti, abbiamo parlato sulla possibilità di correre insieme con Ferrari. Siamo stati molto vicini, soprattutto quest'anno, per ragioni diverse. A un certo momento abbiamo deciso di rinviare, per il momento, perché era una situazione forse meglio per tutte le due parti e così siamo andati in strade diverse. Però siamo stati abbastanza vicini e la Ferrari, per qualcuno sia un pilota, presto o tardi nella carriera di un pilota, deve essere, se c'è la possibilità. Sarà per il 92. Grazie. 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 Grazie.